Cominciano ad attivarsi i primi servizi connessi all'edificazione dell'auditorium Scavolini. Oggi taglio del nastro del punto vendita Coop nei locali che furono del vecchio hangar. Si tratta del sesto punto vendita aperto in città dalla cooperativa di consumo di Villa Fastigi che come ricordato dal suo presidente Walter Colonnesi è prossima al traguardo di 120 anni di presidio sul territorio con 4.200 soci coinvolti. Un market la cui apertura è stata accompagnata da una nutrita partecipazione di cittadini al seguito dei saluti istituzionali tenutisi al fresco del bosco che cammina uno dei progetti itineranti della natura e della cultura di Pesaro 2024. Una struttura di vicinato importante per questa zona della città. Devo dire che sono contento che la cooperativa di consumo di Villa Fastigi sia venuta qui ad investire ad aprire questa nuova attività. Una cooperativa che ha quasi 120 anni di storia che è sempre puntato sulla qualità di quelli che sono i prodotti che propongono alle persone. Quindi comunque un auditorium che comincia a prendere corpo. Noi cercheremo nei prossimi mesi di organizzare tante iniziative in questo spazio perché ritengo questo spazio, il nuovo auditorium Scavolini, una grande opportunità per tutta la città sia dal punto di vista turistico ma anche per tanti pesaresi. Al fianco del market è di prossima apertura anche il ristorantino Cicoria gestito dalla stessa Coop. Siamo nati nel 1854 in Italia ma questa è una delle cooperative che ha più continuità a Villa Fastigi perché è nata nel 1906. La mutualità è il rapporto tra i soci, tra di loro attraverso queste strutture, questi negozi, le attività che facciamo per sostenersi e avere prodotti buoni, accessibili a tutti, anche chi ha meno soldi, ma che abbiano quelle caratteristiche di salute, di sostenibilità necessarie. Ed è necessario fare qualcosa di importante per rendere accessibile a tutti una buona spesa, dei buoni prodotti, però non basta avere un prezzo basso, che quel prezzo sia comunque sufficiente per pagare chi ha lavorato per produrre quelle cose. Quindi è inammissibile che persone possano morire perché non hanno tutela dei diritti, non hanno in qualche modo un lavoro stabile, perché il caporalato, il lavoro nero, soprattutto nel mondo agricolo, sono ancora troppo diffusi. Noi come co cerchiamo di controllare tutta la filiera affinché tutto questo non avvenga, quindi il prezzo giusto è per le persone, per i consumatori, ma anche per i lavoratori che ci sono prima. Dopo supermercato e ristorantino arriverà anche la farmacia comunale di Aspes, che traslocherà dagli attuali locali della zona mare in Viale Fiume. È lo spostamento di una farmacia per cercare di rendere più fruibile per il quartiere della zona mare, in cui abbiamo la farmacia oggi, renderla più grande, renderla più fruibile e quindi maggiori servizi. All'oggi stiamo lavorando alla progettazione degli arredi e della struttura del layout e entro qualche mese riusciremo a rendere l'operativa. A dire il vero c'è un ricorso da parte dei privati rispetto ad un atto tecnico del Comune, ma indipendentemente dal ricorso noi stiamo andando avanti. Potrebbe aumentare nell'eventualità che al momento non si possa trasferire la farmacia in quello spazio, fare una parafarmacia ulteriormente a servizio del quartiere e della zona centro mare della città. Intanto comincia a prendere corpo il cartellone di eventi nell'auditorium, a cominciare dall'imminente prima volta del Rossini Opera Festival con l'ouverture del 7 agosto e la messa in scena di Bianche Falliero. Siamo pronti per il ROF, proprio di questa mattina abbiamo avuto una serie di incontri con il Comune perché una struttura come questa che è complessa e che è nuova va tra virgolette abitata. Abbiamo una serie di eventi già programmati da settembre in avanti, alcuni sono eventi culturali, altri eventi di convegno. E' quella struttura, come abbiamo sempre detto, una struttura polifunzionale che ci deve aiutare a creare economia turistica nella città e che deve attrarre eventi.